Amici d'amiche, sono Vincenzo D'Amico e vi do il benvenuto nella nostra rubrica settimanale che si occuperà di analizzare lo stato dell'arte nell'odontoiatria moderna. In questa puntata ci occuperemo dell'utilizzo del laser nello studio dentistico. Il laser è il macchinario che più di ogni altro ha rivoluzionato le nostre metodiche operative. Distinguiamo un laser per tessuti molli ed un laser per tessuti duri. I prezzi ad oggi non sono ancora del tutto accessibili, è tuttavia uno strumento fondamentale del quale il professionista non riuscirà più a fare a meno. Se andiamo ad analizzare il laser per i tessuti molli, esso, meglio conosciuto come laser a diodi, ci dà la possibilità di lavorare con ridotti quantitativi di anestetici, la capacità di coagulare il tessuto e di conseguenza non avere eccessivi sanguinamenti durante gli interventi, la capacità di andare a disinfettare sia le tasche parodontali, quelle dei scienze ossee, cioè che sono tipiche delle persone con la parodontite, quella che più comunemente veniva chiamata piorrea, e a livello endodontico, cioè nelle devitalizzazioni, ci permette di avere una disinfezione maggiore nei canali radicolari. Per quanto riguarda l'azione sui tessuti duri, e per tessuti duri intendiamo il tessuto dentale e il tessuto osseo, il macchinario di elezione è sicuramente il laser aderbium. Il laser aderbium ha sostituito l'utilizzo del trapano nella cura della carie, quindi non abbiamo più lo spiacevole dolore, la sensazione spiacevole quando non si utilizza in estetico, ma a livello microscopico non abbiamo il surriscaldamento della superficie e le microfratture che la punta diamantata inevitabilmente creava con il contatto con il dente. Il laser, che ha la capacità di creare delle microcavità non andando però a contatto con la superficie dentale trattata, ci permette di ridurre al minimo il fastidio, di ridurre al minimo la quantità di tessuto sano asportata, di migliorare la dentina di reazione di tre volte rispetto al trapano. Che cosa intendiamo per dentina di reazione? Intendiamo una forma di guarigione del dente, quindi una cicatrizzazione delle parti più interne del dente. Con l'utilizzo del laser questa cicatrizzazione è tre volte più efficace, ma soprattutto di avere dei trattamenti più sicuri, più rapidi e più completi. Se analizziamo un video operatorio con una carie di quinta classe, quindi una carie del colletto, vediamo come la luce del laser a debita distanza ci fa capire che non c'è nessun contatto tra il puntale del laser che è in gomma, ricordiamolo, e la superficie del dente. Il fascio di luce, che è l'azione del laser, unita ad una importante erorazione, perché il tessuto comunque ha un surriscaldamento che deve essere raffreddato appunto con l'acqua, ci permette di essere selettivi verso il tessuto morto. Ecco che le parti sane del dente vengono risparmiate ed ecco che anche la mordenzatura, che è la nostra preparazione per l'adesione della cavità, è già stata eseguita, senza l'utilizzo di quegli spiacevoli acidi che vengono utilizzati all'interno della bocca per preparare il dente. Come vediamo da quest'altro video, il laser trova indicazione anche nella chirurgia delle mucose, quindi nei tessuti molli, parliamo di laser ad erbium, perché la sua azione di taglio è comunque un'azione importante. In questo caso viene utilizzato in combinazione, quindi abbiamo tagliato la mucosa, stiamo scavando nell'osso per andare a prendere un'infezione che si trova nella parte apicale del dente, quindi nella parte più bassa. In questi casi, dove il dente devitalizzato non può essere ritrattato perché magari c'è un perno o perché il canale è chiuso, preferiamo intervenire con un intervento definito apicectomia con il quale andiamo a rimuovere direttamente la zona infetta. Ecco che il laser, a differenza della turbina, ci dà una maggiore versatilità, un maggior rispetto sia dei tessuti molli che dei tessuti duri e ci permette poi di tagliare indistintamente sia l'osso che il dente. Ecco che le applicazioni della laser ad erbium in odontiatria oggi trovano un riscontro totale. Hanno pensionato i vecchi trapani che tuttavia ci servono per rimodellare il dente dopo averlo ricostruito, ma uno studio moderno non potrà rinunciare ad un'apparecchiatura del genere. Quindi il mio consiglio è quello di affidarvi a dei professionisti che abbiano la capacità di utilizzare i laser nella maniera più adeguata. Nella mia esperienza professionale tutto ciò ha totalmente rivoluzionato il mio modo di fare odontoiatria, in meglio, sia per lo studio che per il paziente. Con questa carrellata sull'utilizzo dei laser abbiamo concluso e vi do appuntamento alla prossima puntata. Dal dottor Vincenzo Lamico è tutto. Dal dottor Vincenzo Lamico è tutto.